bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le news giornaliere riguardanti il futuro di fortnite e tanto tanto altro nel video di oggi parleremo di un grande problema che sta affliggendo proprio in queste ore la community competitive di fortnite ovvero sia le fn cs sono stati scritti degli articoli molti pro player si sono lamentati per come epic games sta gestendo voglio spiegarvi tutto ma parleremo anche nuovamente di marvel che continua a rilasciare degli easter egg sulle future collaborazioni di questa season e parleremo anche di molti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi una ripassata velocissima al compleanno di fortnite che è in corso ancora per un po di giorni per tutti quelli che stessero cercando la location delle torte di compleanno per completare una delle sfide ecco qua ragazzi la mappa con i puntini rossi come avete già capito tutte le città nominate hanno una torta di compleanno più o meno verso il centro comunque la riconoscete dai palloncini intorno i pezzettini da poter mangiare mi raccomando ragazzi ricordatevi di completare tutte le sfide prima del termine del compleanno perché questi premi non torneranno mai più e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è proprio il main argument argomento si dice non lo so del video le fncs facciamo un attimino una delucidazione molto rapida sugli orari di broadcasting quindi di trasmissione del torneo ed ecco qua ragazzi come sappiamo le fncs le finali saranno in ottobre e ogni sabato e ogni domenica potremmo vedere in diretta eventualmente le qualifiche fncs programming schedule all times in us eastern cosa vuol dire vuol dire che nei weekend potremmo guardare come leggete nella seconda riga 1 e 15 pm live e vuol dire le 19 e 15 e vanno avanti per un bel po di ore quindi non vi preoccupate che vi dirò nuovamente gli orari era solo per farvi rendere conto che se volete seguire il competitive sarà nei weekend tra l'altro ninja che oramai sappiamo tutti essere tornato alla grande su twitch anche se gioca un po meno a fortnite lo vedo di più su altri videogiochi dice senza una league dedicata con dei team e dei giocatori che si rispettano diventa difficile giocare correttamente il competitive il problema principale è la gente che va a griffare il landing di altri player o di altri team le pushate a random tipo quelle contro safe quelle che non hanno proprio senso oppure le dumb kill quindi le kill quelle un pochettino idiote ignoranti vedetelo un pochettino così senza se epic games non prende in mano la situazione il game viene rovinato per chi gioca e per chi guarda questo ovviamente causerebbe e causerà un calo dell'attenzione da parte del pubblico sul competitive credo che ninja abbia abbastanza ragione perché noi forse l'abbiamo un po meno avendo non tantissimi giocatori in italia che possano competere a livelli veramente professionali ma tutti quelli che invece seguono i propri beniamini americani o di qualsiasi altro paese del mondo hanno questo problema ed effettivamente non c'è più tantissimo rispetto per quello che riguarda il competitive ma se da una parte c'è ninja che parla di rispetto e di buone maniere tra virgolette dall'altra c'è gente come benji che invece pensa esclusivamente al monte premi e si lamenta del fatto che queste fncs avranno monte premi notevolmente ridotto per le prime posizioni come vedete l'anno scorso si parlava di ben 480 mila dollari che rapportati a quelli di quest'anno 111 mila hanno veramente un abisso come vedete anche tutti gli altri a scalare perché il monte premi è più basso in queste fncs perché ovviamente fortnite sta mettendo il price pool quindi i 100 milioni di dollari se non ricordo che aveva messo via per la stagione o per i due anni in cui ci sarebbero stati i tornei competitive li ha messi anche per le daily cup li ha messi per i tornei infrasettimanali quindi in realtà ci sta e c'è un bellissimo articolo che vi ho tradotto che spiega perché fortnite in realtà sebbene sia il gioco attualmente più importante della storia per i numeri che ha fatto non si è ancora concentrato correttamente sulla parte e sport tuttavia non è solo questione di soldi per loro epic games è un altro segno è un altro segno che epic non si preoccupa del lato competitivo di fortnite il loro difesa hanno anni di prove a sostegno di questo il reporter di esports rod slasher ha valutato questo argomento su twitter parliamo di gente che scrive di esport a livelli mondiali quindi non il primo pirla della cucciolata affermando che il vero problema con gli esport di fortnite non ha nulla a che fare con il premio in denaro gli esport di fortnite non hanno bisogno di 100 milioni di premi in denaro per avere successo fortnite ha bisogno che happy games si preoccupi veramente della sua community di giocatori competitivi con un piano a lungo termine per i professionisti invece di trattare gli esport come un esercizio di marketing e qui ha assolutamente ragione ragazzi perché a parte il problema che molti giocatori competitive si sentono spesso e volentieri lamentarsi durante il loro stream per quanto sfortunato possa essere slasher ha ragione epic sta usando i sport fortnite come un esercizio di marketing lo hanno sempre fatto quando è arrivato che vinde cuba fortnite nel mezzo di un torneo quando è arrivata l'infinity blade su fortnite la sera prima di un torneo la stagione 7 del capitolo 1 iniziata quattro giorni prima del torneo winter royal da un milione di dollari ciò significa che tutte le qualificazioni si sono svolte in una stagione di fortnite diversa rispetto alle finali ed effettivamente ragazzi il grande problema di fortnite è appunto quello di dare poca importanza poco peso alle vere lamentele della community secondo me dovrebbero fare un passo indietro perché ovviamente nonostante sia sempre un gioco di punta sappiamo che non ha forse lo stesso splendore di uno o due anni fa dovrebbe davvero pensarci e voglio parlarvi di un altro argomento ragazzi molto molto rapida la vedete questa immagine la conoscete benissimo parliamo delle dei regali invernali dell'anno scorso in realtà il background mi serviva solo per dirvi che epic games will be taken a break next until ottobre 4 quindi fino al 4 ottobre ragazzi non ci saranno aggiornamenti importanti hanno preso una settimana di vacanze e quindi non aspettiamoci nulla e chiudo con l'immagine che vi avevo detto di marvel arriva nuovamente questa immagine che dovrebbe essere relativa alla copertina di un fumetto e come vedete nuovamente nelle skin sia degli eroi marvel che di fortnite spiccano tre eroi che ancora stiamo aspettando capitan marvel black panther e ghost rider quindi ragazzi aspettiamoci davvero un sacco di news io vi racconto vi ringrazio vi racconto una storia vi ringrazio per aver guardato il video news di oggi mi raccomando non dimenticate un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate su twitch in live dalle 8 ciao